Qui siamo nella terra di una comunità, di un'etnia molto famosa, che sono i Valser. Allora, siamo qui venuti oggi a un nuovo crescione in Valdosta, perché Stefania per la cultura, che è una protagonista che vi presenterò tra poco, che è lei, avrà poi da dirci qualcosa relativamente alla cultura di questo posto. Stiamo passeggiando su questo bellissimo sentiero che dal castello Savoia, dopo Grestionei Saint-Jean, porta direttamente al rifugio Mollino, dedicato a Carlo Mollino. Il sentiero è abbastanza facile, siamo un po' penalizzati dal fatto che fa tantissimo caldo, c'è proprio tanto caldo, nonostante siamo in Valdosta, temperatura è più bassa, ma il sole picchia forte, c'è una discreta salita, quindi comunque un po' di fiato esce fuori, però il paesaggio è veramente indescrivibile, ci si sta molto bene. Ciao amici, eccoci qua, siamo al rifugio Mollino, eccolo qua, come potete vedere, casa capriata, in realtà dedicata appunto al famoso architetto Carlo Mollino, è una struttura molto particolare, con laghetto artificiale, ecosostenibile. Eccoci qua, siamo arrivati, questo è il rifugio, casa capriata, rifugio Mollino, e questo laghetto è molto carino, molto alpino. Ok, adesso breve pausa e poi ricominciamo a scendere, andiamo a visitare Gressonei, così la nostra Stefania, per la cultura, ci parlerà dei balsers. Cos'è questa musica? Ah, guardate un po' chi c'è! D'Arco, ritrovarsi qui! Ciao! Ciao! Super Pier! Anche tu in questa parte, super Pier, non lo ricordate? Oggi sono anch'io qua. E forse vi ricorderete di me, per quel video che abbiamo fatto sul canale YouTube di D'Arco, in cui eravamo al Bosco della Levese, se ti ricordi? Esatto! Invece qua siamo in Val d'Aosta, vicino a Gressonei, in un paesaggio molto simile in realtà, perché c'è una ricetta, però ci sono anche i boschi di Pinocembro, infatti eccola qua, ho ritrovato la peggia del Pinocembro, quella ghiotta dalle nocciolaie. Sì, le nocciolaie! Le nocciolaie! E chissà se ci sono anche qua, tra l'altro. Probabilmente sì, se volete saperne di più sulla nocciolaie e il Pinocembro, qua vi metto il link del video che avevamo fatto con Super Pier proprio al Bosco della Levese. Stupendo! Senti che profumo? Che aria si respira qua! Profumi di natura. Allora, continua pure la tua passeggiata. Sì, salgo, sono un po' in ritardo oggi, ma aggiornatevi. È sempre bello passeggiare. Ciao Super Pier! Ciao! È stato un piacere! Grazie! È stato un piacere nostro. Noi intanto andiamo giù a Cressonei, andiamo a incontrare Stefania che ci parlerà dei waltzer e della loro cultura qui in Val d'Aosta. Ciao! Entriamo nel centro di Cressonei. Eccoci qua. Siamo a Cressonei, San Jean, che è la pulla della cultura waltzer. Siamo ai piedi del Monte Rosa, ci troviamo, e questa è una tipica abitazione waltzer. Adesso hanno fatto la biblioteca. I waltzer chi sono? I waltzer sono una popolazione germana che è arrivata a colonizzare le val del Piemonte, la Valsesia e la Val d'Aosta. Loro costruivano queste case tipiche con la parte in pietra sotto e il legno sopra. I waltzer hanno colonizzato questa parte della Val d'Aosta e la Valsesia perché erano molto bravi a coltivare in zone molto elevate di altitudine e quindi i signori tra l'800 e l'900 aiutavano i waltzer, infatti una popolazione non è mai stata perseguitata come i valdesi proprio perché i signori della zona pagavano loro i terreni proprio per coltivare e per allevare il bestiale. Venite a fare un giro su questa bellissima cittadina.